Vediamo adesso i principi della termodinamica. Iniziamo dal principio 0 che dice che se abbiamo tre sistemi A, B e C dove A è in equilibrio termico con il sistema B e B a sua volta è in equilibrio termico con il sistema C, allora succede che A è in equilibrio termico anche con C. Un chato semplice ma che trova molte applicazioni poi nella risoluzione di diversi problemi. Il primo principio invece che cosa diciamo dice? Che se noi vogliamo trasformare del calore in lavoro, parte di questo calore viene, come dire, va a modificare quella che è l'energia interna di quel sistema, quindi di quel corpo che chiamiamo con delta O. Quindi quel calore parte viene trasformato in lavoro ma una parte potremmo dire dissipata o per variare l'energia interna. Il secondo principio invece ha due enunciati, quello di Kelvin e quello di Clausius. Quello di Kelvin che cosa dice? Dice che è impossibile realizzare una trasformazione termodinamica il cui unico scopo sia quello di trasformare calore in lavoro. Esattamente ciò che in qualche maniera è affermato già nel primo principio. Cioè non puoi costruire una qualche macchina termica, quello che sia, che trasformi totalmente in lavoro il calore assorbito da quel sistema. Invece l'altro enunciato, quello di Clausius, che cosa dice? Che è impossibile realizzare un sistema termodinamico in cui si sottrae calore da una sorgente, diciamo, già più fredda A rispetto a una più calda B, senza l'apporto di energia esterna. Cioè questo ciclo, diciamo, termodinamico in cui vai a sottrarre calore da una sorgente che è già più fredda, non può che avvenire attraverso la fornitura di energia esterna e questo descrive in qualche maniera ciò che avviene esattamente proprio nel ciclo frigorifero. Questi due enunciati, va detto, sono equivalenti tra di loro. Cioè si è riuscito a dimostrare che partendo dall'enunciato di Kelvin, quindi che il calore non può essere totalmente trasformato in lavoro, si raggiunge l'altro enunciato invece sul sottrarre calore a una sorgente più fredda. E viceversa, quindi partendo dall'enunciato di Clausius, si è giunti a quello di Kelvin. Ecco perché vengono entrambi, come dire, mantenuti e seppur sembrano essere, diciamo che lo sono sotto molti aspetti, diversi come enunciati, però sono appunto equivalenti tra di loro. Grazie. Grazie.